ok in questo istante siamo in una bici a due che non so come come facciamo no io sono dietro questa bici guardate mi sa che tu un bike nato ma fa flat andiamo di lasano come facciamo non qui cos'è almeno magari un viunate e allora alle 25 e 10 alle due fai aiuto ma io devo girare anche io devo girare forse è meglio